Io non ho avuto special blessing da parte di nessuno. Sono nata a Roma, anche se il mio cognome è Napoli, presuppone origini curiose o campane, sono veramente romana. Il mio apporto con il cinema è accaduto così. Il mio supporto e apporto con il cinema è accaduto così. Forse la concausa è stata mia madre, involontariamente, perché mi portò ad abitare in piazza di Cinecittà 44, di fronte all'Istituto Luce. Il sogno della mamma, come sai, era il posto fisso. Lei diceva perché non vai a lavorare lì all'Istituto Luce? Io ero terrorizzata perché alla mia età, avevo 14 anni, arrivavano le bollette della luce con tutte le traforature e io credevo che le traforature fossero fatte e edite dall'Istituto Luce, cioè che faceva la luce. Ero terrorizzata. Invece l'Istituto Luce, che appariva proprio di fronte alla finestra di casa mia, era un centro pazzesco di cinema. Era un grande archivio fotografico, un grande archivio storico e poi c'era il più grande centro di postproduzione dell'epoca, c'era la Fonolux. E chiaramente a quell'età, avendo 14 anni, avendo amicizie di quartiere, ci si frequentava, ci andava ogni ragazzo a ballare e così. Una sera una mia amica mi disse, senti, vieni a prendere, vieni nello studio dove lavoro, vieni a prendermi e poi andiamo a ballare e così. E io dico, dove sei? Nell'Istituto Luce, alla Fonolux. E io dico, posso entrare allora all'Istituto Luce, posso finire da te? E sono entrata, chiedendo, e sono andata, entrata dentro l'Istituto Luce e sono entrata in questo meraviglioso posto che era la Fonolux, leggendaria. Chiedo della mia amica, mi dicono dov'è, salgo delle scalette, entro in una stanza dove c'erano cespugli, cespugli di pellicola, di magnetico, tutto marrone, di statico tagliato a metà, tutto bianco e nero, e la Moviola, è la mia amica che lavorava, perché lei sincronizzava il doppiaggio dei film che editavano alla Fonolux. Io mi sono avvicinata e ho visto che lei usava ancora la Moviola quella con la manovella a destra e la manovella a sinistra. Io rimasi affascinata, ho detto, ma tu sei in grado di comandare alle immagini di andare avanti o indietro? Eh sì, perché si fa così e così. Rimasi folgorata e capì che quello era forse la cosa più curiosa che avrei desiderato. Dunque, in quel periodo, ci riferiamo agli anni Sessanta, la pellicola era ancora il triacetato di cellulosa, cioè era un composto chimico infiammabile, per cui quando il montatore decideva di fare un taglio per giusto apporre le due inquadrature scelte, doveva tagliare sul bordo del fotogramma, cioè sull'interlinea, raschiarla con una piccola barrita di ferro, metterla su due strati, raschiare l'altro lato, metterci della colla, si chiama il Miele, preso da una bottiglietta di vetro e poi così agganciarla e incollarla. Questo era il passaggio, il primo taglio di montaggio. Chiaramente doveva essere un taglio deciso, perché se tu volevi immaginare un'altra possibilità, non so, una caduta da un cavallo, volevi lo zoccolo più lontano e volevi rifare quel passaggio, perdevi un fotogramma e dovevi raschiare quello successivo, per cui dovevi essere molto deciso. Occorreva un'attitudine molto molto paziente, particolare, diciamo un'accoglienza femminile, perché poi si lavoravano i guanti di filo, perché gli acidi rosicchiavano e lasciavano le impronte sulla pellicola. Di conseguenza in quel periodo diciamo che le donne erano quelle più dedicate a questo tipo di lavoro, perché avevano più attitudine con queste cose. Poi negli anni successivi, qui posso fare dei nomi straordinari, dall'Adriana Novelli che era la montatrice di De Sica, a Yolanda Benvenuti per tutti i film di avventura dell'epoca, Dolores Stamburini che era la montatrice di soldati e veramente ne sono state tantissime di montatrici di donne. Poi c'erano soltanto due o tre famosi uomini, uno era Mario Serandrei, l'altro era l'ingegnere Leo Catozzo che lui inventò, inventò, copiò un pochino, ma inventò, brevettò una piccola pressa con l'ausilio del nastro adesivo trasparente che poteva fare quel lavoro che facevano le donne con il raschietto e il miele per incollare i due fotogrammi, soltanto tagliando e avvicinando, neanche soprapponendo, ma mettendo il nastro adesivo, mentre una pressa punzonava la perforazione della pellicola in concomitanza dello scorrimento, per cui era una genialità e a quel punto c'era anche non solo meno esigenza di quell'attenzione, fu anche velocizzata la modalità del montaggio, ormai la giusta posizione di due inquadrature non era più una scienza pensata a lungo, ma veloce, era molto interessante questo tipo di innovazione. Io quando ho iniziato ho cominciato con il raschietto, perché quando ho avuto la passione di diventare volontaria, il primo lavoro che mi è stato offerto come volontaria era sempre nell'Istituto Luce, di cui ho raccontato prima, però mi chiesto con chi volevo andare, con la Yolanda Benvenuti che faceva il cinema, però mi ho detto che era molto severa, cattiva, insomma, antigerrima, oppure con Maria Schettino, una persona molto amabile che però si occupava di cinegiornale, e io scelsi Maria Schettino, andai a fare il cinegiornale, dalle riprese alle spedizioni, allo speaker, al montaggio, facevo tutto e feci veramente tutto il volontariato dal raschietto del Miele fino a quando arrivò questa pressa e anch'io diventai una delle colonne volontarie di quel periodo.